Bella, bella, bella. Tutti gli anni ci vengo a vedere, è una cosa spettacolare, bellissima. C'erano tanti soldi, 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 soldi. Da quanti anni più o meno? Io ho 71 anni, 71 anni, 8, 5, 48, sempre sopra una città, quando ho iniziato a fare le cose, mia, mia. A 71 anni, quasi in questi momenti, le gare veramente, le gare veramente proprio, correvano via, mia, mia. Però c'avevo 7, 8 anni, 10 anni, 6, 7 anni, 7 anni, 6, 5, 6. Però adesso le vedo che fanno... Qual è il veicolo più bello che lei ha visto in tutte queste edizioni? Dai, ci pensi, dai, 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 dai. Che erano una Mercedes, una Ferrari? No, 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 è meglio le Ferrari, io voglio le Ferrari. Ferrari, c'è stato uno in America, ha vinto, non so quanti milioni di dollari, quando l'hanno intervistato gli hanno detto, che cosa ti piace comprare? La Ferrari, la prima cosa che ha detto, la Ferrari. Ultima domanda, è la Libero. Quanto è importante, secondo lei, dato anche la bellissima sciarpa per Terni, un evento come questo? Bellissimo, bellissimo. Soltanto perché mi è sperato, Terni, non mi è venuto a piacere. Dai, forza a fare! Forza a fare, ciao, 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 mi è venuto a piacere. L'abbonamento 10 euro all'anno, 10 euro, l'abbonamento 10 euro all'anno, mamma mia come siamo arrivati, mamma mia, che finanza che fanno, come finanza, ciao. Oh, ma dove si vede questo? Grazie. Grazie.